Il segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, aprirà i lavori giovedì prossimo all'Università di Teramo del IV Forum del Gran Sasso, che quest'anno avrà per tema allargare gli orizzonti della carità per una nuova progettualità sociale. Se ci si aspettava la presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, che invece sarà impegnato a Napoli a dare uno spirito internazionale all'evento speciale della Presidenza italiana del G20, sarà proprio la presenza della più alta carica vaticana dopo il Papa. Allargare i orizzonti della carità significa che tutti, qualunque sia la propria competenza e il proprio ambito di impegno, sono chiamati a rivedere la propria presenza e il proprio impegno in una prospettiva completamente nuova, perché noi siamo nel cambiamento d'epoca e questo cambiamento d'epoca impone una riflessione nuova che Papa Francesco chiama di prossimità. Il governo sarà presente il Ministro Bianchi sabato mattina, poi ci sarà anche il videomessaggio della Ministra dell'Università e poi altrimenti la presenza del Segretario di Stato, il Cardinale Pietro Parrovin. Abbiamo appreso questa notizia e quindi siamo molto contenti perché anche per la vita della Chiesa è una testimonianza di attenzione verso questa esperienza. Nella tre giorni si succederanno ben 17 rettori provenienti da tutto il mondo, soprattutto dall'Africa e ci saranno gli interventi del Ministro dell'Università, Maria Cristina Messa, che parteciperà in collegamento da remoto e le conclusioni che verranno affidate al Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che invece sarà presente sabato mattina. Siamo onorati per ospitare il quarto forum del Gran Sasso, allargare gli orizzonti della carità, un forum ricchissimo come sempre, all'interno del forum la conferenza dei rettori africani che tornano in presenza dopo due anni, quindi corteo accademico in loro onore, ancora la carta di Teramo al centro, al centro delle politiche di cooperazione per lo sviluppo. Quindi Teramo, ancora una volta, centro importante a livello nazionale e direi a livello internazionale.